il centrodestra è perfettamente sincronizzato come loro o quasi così matteo salvini a margine dell'evento di mototerapia che si è svolto davanti a palazzo lombardia a milano il leader della lega ha detto di essere al lavoro per avere candidati comuni con le altre forze politiche forza italia e fratelli d'italia sto lavorando per unire ha commentato il leader leghista su bertolaso e albertini c'è compattezza e non c'è nessun veto salvini ha poi continuato parlando dell'udienza prevista per domani a catania sul processo gregoretti mi auguro di andare incontro a una giustizia uguale per tutti e non a un tribunale politico ha commentato sottolineando che l'italia è l'unico paese dei 27 dell'unione europea a mandare a processo un ministro per un atto di governo se non è un processo politico questo ditemi voi di che cosa si tratta ha concluso